Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Crotone hanno fatto vista i ragazzi impegnati nel campo scolestivo. Anche io sono Protezione Civile, il personale della Questura ha incontrato i ragazzi di età compresa tra i 9 e i 13 anni, affrontando i temi del bullismo e cyberbullismo, evidenziando i rischi che i ragazzi corrono sulla rete e in particolare il pericolo che lo strumento informatico venga utilizzato come veicolo per azioni di bullismo. Sono state inoltre illustrate le conseguenze di tali condotte, nonché le modalità per potersi difendere dalle situazioni pregiudizievoli. I ragazzi sono stati poi convolti in un'attività in cui in maniera anonima hanno potuto denunciare situazioni vissute in prima persona o che li hanno visti comunque partecipi, mostrando molta attenzione e interesse su un tema di forte attualità.